Sono Marco Bertinotti e Andrea Rondi, i vincitori della tredicesima edizione del Rally Lana Storico, quinto appuntamento del campionato italiano che si è svolto sabato. Per l'equipaggio della Rally & Co, il successo ottenuto con la Porsche 911 RS biss a quello siglato nel 2021, grazie a una gara perfetta e priva di errori, soprattutto nella scelta degli pneumatici, azzeccati fin dalla prima prova. Delle sei regolarmente disputate, cinque portano la loro firma. Per loro, oltre alla soddisfazione per la vittoria, anche quella per essersi aggiudicati il trofeo Meme e Gubernati, messo in paglio per il primo equipaggio testrato a Cibiella. In seconda posizione, unici a tenere il passo dei futuri vincitori, Lucio Dazzan che Giuseppe Livecchi, con una vettura analoga, con la quale sono riusciti a vincere la quarta speciale spezzando la loro egemonia. A completare il podio ci pensano Corrado Pinzano e Marco Zegna, per la prima volta in gara con BMW M3, con la quale si sono aggiudicati la vittoria nel quarto raggruppamento. Mentre non fa quasi più notizia, il successo nel terzo, firmato da Ivan Fioravanti, che porta otto le vittorie di categoria con la Ford Escort RS, condivisa con Annalisa Vercella Marchese. Oltre alla vittoria assoluta, Bertinotti e Rondi marcano punteggio pieno anche nel memory for NACA. Sono invece due Porsche 911 a primeggiare nel Michelin Trofeo Storico, la RS di Maiolo e Paracchini nel secondo raggruppamento, e la SC di Valle Bertoglio nel terzo. Quasi a senso unico anche la gara delle A112 Abarth dove a vincere, per la terza volta in stagione, sono Marco Gino Dallavo e Manuel Piras, che hanno preceduto gli esordienti Luca Cortellazzi e Federico Busato, podio completato da Riccardo Pellizzari e Renato Vicentin. Pronti via, la Campore ha visto svettare subito Bertinotti, più veloce di un secondo e cinque rispetto ad Azzanche. Sulla Baltigati, il duo di casa ha incrementato il vantaggio, gettando le basi di una lotta 2 per la vittoria. Pinsano, già a 25 secondi dalla vetta, con Fioravanti e Salvini una manciata dietro. Bertinotti ha completato la prima tornata di prova infilando un altro scratch e al riordino al centro commerciale Gli Orsi, è arrivato con 15 secondi di vantaggio. Dazzanche è unico a restare in scia nonostante una scelta non ottimale di gomme. E proprio lui ha imporsi nella ripetizione della Campore andando a spezzare l'egemonia di Bertinotti e riducendo di qualche secondo il gap. Ma il leader ha subito risposto imponendosi nuovamente sulla Baltigati con un vantaggio salito 17 secondi, mettendo poi una pesante ipoteca sulla vittoria ad una prova dalla fine. Uno scoroscio di pioggia ha cercato di mescolare le carte durante lo svolgimento della lunga Bioglio 2, al termine della quale Bertinotti non ha lasciato nulla agli avversari, festeggiando la vittoria e firmando il quinto parziale. Al traguardo degli Orsi, 66 gli equipaggi che si sono classificati, 11 dei quali del trofeo A112 a Barti Yokohama. Sì, dai, è stato veramente bello, emozionante e la gara di casa ha sempre quel tocco in più via, diciamo. E diciamo che Lucio mi ha fatto sudare e non avevamo mai grossi distacchi, difatti non abbiamo mai calato il tiro completamente, anche sull'ultima prova speciale, sempre in fondo. È stato bellissimo perché comunque c'è tanto pubblico e un'emozione. Grazie. Grazie.